ci siamo riproviamo anche oggi un pochettino di arcade va anche se da cambiamo il titolo ma ci sta allora allora vediamo se riusciamo anche a provare un pochettino il ptr e non quanto noi nerf è boff dunque quanto lungo questo titolo ok perfetto istantaneo signori incredibile ci vediamo no no perché attenzione vediamo di settarlo bene eccolo lì perché non c'è perché non è cambiato il titolo sempre problemi come sempre vediamo di assemblarci un bel team da 4 ok funziona no ok ok perfetto vediamo di reclutare qualcuno qua siamo un po' stanchini oggi eh abbastanza giornata abbastanza pesante guardate i dati di allenamenti il karate che distruggono ragazzi partì da ieri il allenamento mercuridì apriamo il balance dai oh leggendario sì la volevo la volevo la volevo questa tracer caspita se non la volevo bellissima 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 questa è carina eccola lì già allora vediamo se riusciamo a chiedere a qualcuno se gli va di provarci provo con oli che ci sono sentite a pomeriggia se credo che forse sia fk ah il buon gink perchè no io di si le 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 visto che qua la live non vuole farsi vedere oh no scherzo ma come se fossi il ptr questo comore già l'ho provato bellissimo il nuovo lusio io lo devo per modo di dire adesso pensate per girare completamente un muro basta semplicemente tenere premuto barra spazzitrice cioè sto pomeriggio mi divertivo ero qui e wall rideavo completamente 360 questo muro qui tenendo semplicemente premuto barra spazzitrice né mouse né waz né niente spazzitrice spazzitrice ne ho fatte sei credo si si niente non ci vediamo ancora siamo sfigati di questo maledettissimo pc è lì? no non ho ancora spazzitrice c oh oh finalmente grazie pc oh ma io devo compiare la scena mi non è male che sono solo in warm up quindi la gente non ha visto niente quando ho parlato di questo qui dicevo prima con lusio giravo wall rideando 360 tutto questo muro qui tenendo semplicemente premuto barra spazzitrice stanza waz né mouse un tasto solo un dito solo sulla barra nel momento che è stato merfato diciamo cioè si merfato il wall ride di lusio e niente e niente perché è non to j qualcuno si Poi devo comporre palla, magari sullo smurf visto che siamo scesi un pochettino sullo smurf. Bene, quindi quella skin l'abbiamo presa. Nello scorso evento vorrei prendere quella di Genji ancora, quella di Guido Me che era carina. Legendary 9 non saprei... Ma quella di Anzio l'ho presa alla fine, quella dell'evento in generale, non ricordo. Perché non mi ricordo più che l'ho presa. Forse si, forse non lo. Tutta carina quella, mi piaceva. Forse l'ho presa. Facciamo un attimo un check up, se no... Che dice? Ah, non ha risposto ancora. Va bene. Che c'è altro? Ah, chissà, però sicuramente sta in team. Ah, io credo che sia salito un po', dai, speriamo per lui. Bene. Allora... Dicevo... Anzio, anzio, anzio. Ah, figata. Giusto, c'ho questa qui. Cosa c'ho di nuovo? Spray. Sì. Ah, certo, sì. Bellissimo. Troppaci. Allora, skin... Aspida, sono pochissime, dai. No, questa pure mi piaceva. Questa... Carina, eh. Ecco, sì, che l'avevo presa, l'avevo presa. Allora... Quindi... Le leggendarie... C'è quello di... Vabbè, vedo me che non l'abbiamo vista l'anno scorso. Cosa c'è altro di leggendario, ragazzi? Ah, vabbè, sì, McCree. Non soccorso sempre a Moira di quest'anno. Che non è di niente male. Non vorrei yes, mi piaceva. Sì. Questa è quella black foccia normale. Non vorrei yes, dovrebbe essere questa qui. Yes. Carina, molto carina. Vabbè, dai, vedremo. Vani ancora, non ho niente da fare, non risponde. Ehm... Intanto scrivo a un mio amico. Allora... Che oddio, potrei anche andare su. Vabbè, però... No. No. Lol. Siamo messi qui in un arcade. Uh... Sette giorni. Sette giorni. Sette banche. Ah, già. Sette. Eh... 4 di 4 3, 2, 1, fight! 3, 2, 1, fight! I can't do that I can't do that ora aiutano le gizze c'è un Genji il nostro? no 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 dai un soldato volante 2 e 9? benissimo non non Sì C'è qualcuno dietro? Sì, c'è qualcuno dietro? C'è qualcuno dietro? Nice Solo così Sì Sì Non mi perdere fino alla fine Sì Ho hai te in a mia scocke Sì 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 Oh no Sì Sì Vabbè dai Vabbè Quanto ti devo andare a workare amico mio Divertiti per qualche Ventino di giorni altri A voi finirà la storia mi dispiace Sì 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 No Ce la farà mai Sì 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 Com'è? Credo di non aver capito bene cosa C'era davanti Genji Ha trapassato... ok Ho trapassato Genji E appena uno muore qui diventa subito Sì 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 Ah Al Cascarna Ok Ginnka che ha scritto voi Ha scritto voi il risposto майculi Bucchi No Scabbare Un Pro STOP Grazie. PVA. Non semplice vorrei farlo. Qualcuno. Vediamo se c'è però, vediamo. 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 Grazie a tutti.